Ciao, buongiorno, sono Giovanni Giuffret, ho 26 anni e sono il regista del cortometraggio Non Esiste. Non Esiste nasce per sensibilizzare e trattare la tematica del negazionismo nei confronti del Covid-19. Siamo quasi a inizio pandemia, quindi intorno a marzo 2020, e il protagonista Antonio, che è un ragazzo molto ribelle, che vive fuori Messina, rientrato a casa per pochi giorni, si ritroverà intrappolato in circostanze, in una realtà che non avrebbe mai immaginato. Ha un rapporto molto conflittuale con il padre, ma non starò qui a svelarvi altro, perché vi invito a vedere la mia opera nel portale e nella piattaforma Rai, quindi www.tolipanidisetanera.rai.it e colgo l'occasione per ringraziare Rai Cinema Channel, ma anche il Festival Internazionale Tulipani di Setanera, per aver collocato la mia opera tra i finalisti di questo splendido festival. Come si può leggere, ma anche sentire, alla fine del mio cortometraggio, non esiste un omaggio a tutte le vittime di una pandemia che è stata disastrosa, ed è stato scritto in un momento molto particolare della mia vita, ovvero quando io il Covid l'ho contratto e fortunatamente ne sono rimasto indenne. Grazie per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Ciao. Grazie a tutti.